Ciao! Il Luna Park di Silvia Marina è nuovamente aperto ai ragazzi e le ragazze diversamente abili, iniziativa promossa anche dall'amministrazione comunale. Questa per il secondo anno è una giornata all'insegna del divertimento, una giornata senza barriere con i ragazzi con diverse abilità. Noi abbiamo considerato già dall'anno scorso di fare diversi incontri nel segno del divertimento per questi ragazzi soprattutto nello sviluppo e nell'integrazione sociale nel territorio di questa città. È ovvio che è solo un primo passo, pensiamo di migliorare questi incontri anche nel prossimo anno e sicuramente diciamo che l'amministrazione comunale è sensibile a questi temi. Con questo intendiamo dare non solo una giornata di divertimento ma anche di inclusione e di socializzazione per i ragazzi che hanno diverse abilità, per ragazzi anche della colonia che diciamo sono meno fortunati in questo periodo perché per genitori vuoi o non vuoi, per ragioni di lavoro magari si allontanano un momento. È stato possibile realizzare l'evento soprattutto grazie al buon cuore dei giostrai che organizzano situazioni simili in diverse parti d'Italia, aprendo le loro giostre e permettendo anche a persone con difficoltà di divertirsi serenamente. È il nostro dovere, noi lo facciamo dappertutto. S'inverno l'abbiamo fatto a Terni, non noi, non ne eravamo tutti di noi. Era il settantesimo anno a Terni e noi dove possiamo a Perugia lo facciamo dappertutto. È tutto lì, basta caro ragazzo. Sembrava scomodo non farlo a Silvi Marina perché è un posto che veniamo da oltre 40 anni e quindi ha detto perché non incrementare anche qua, proviamoci. Abbiamo provato l'anno scorso, era andata abbastanza bene però con pochissime presenze. Quest'anno penso che siamo già al doppio, al triplo e noi siamo contenti di ospitare questi ragazzi e farli divertire in maniera... perché quando c'è il pubblico è un po' più difficile. Invece così dedichiamo due ore, tre ore, quattro ore del Luna Park alle loro esigenze.